salve perdonate la luce un po birbante purtroppo non ho ancora una tenda e mi hanno messo un pochino di fretta per fare questo video e quindi nonostante non sia ancora pronto tutto l'ufficio per essere mostrato a voi quest'oggi vi farò vedere questa sugosa anteprima la scrivania flexi spot la scrivania che con un semplice tocco si alza sono a tempo non lo so questa sarà la scrivania il mio banco da lavoro per il futuro come vedete quasi arredata la parte dietro ancora non del tutto pronta qui ci sarà la mia postazione da streaming dove potrò insomma parlare farmi vedere interagire con voi grazie appunto a questa bellissima scrivania che riesce ad alzarsi guardate un pochino tanto così arriva infatti fino a un metro e 27 che permette non lo so che cosa dovrebbe permettermi ma è alta veramente tanto alta elettrica design super minimal veramente una scrivania eccezionale l'ho presa con questo legno straordinario mi piace tantissimo il colore che insomma mi dà gioia mi dà allegria mi dà luce è questo che cercavo da una scrivania ma perché prendere l'elettrica ma semplicissimo pulsantiera completamente programmabile gambe robustissime in grado di alzare 180 kg la si può anche abbassare per renderla una sedia e perché no una sedia alzabile non fatelo a casa però sembra molto pericoloso ma non lo è perché porta fino a 180 kg e io ne peso meno aiuto ho sempre desiderato farlo non credo farò mai le live in piedi però mentre sono in live avrò questa altezza standard per poi lavorare in piedi ed essere molto più comodo nei miei movimenti nel mio lavoro insomma più mobilità per il sottoscritto meno mal di schiena più movimento e più scrivani regolabili ringrazio flexi spot per questo straordinario regalo non vedo l'ora di potervi far vedere tutto il resto dell'ufficio rimanete sintonizzati ovviamente vi lascio il link in descrizione per tutte le varie ed eventuali flexi spot e sai cosa ti alza suona male molto male cazzo ha toccato